Continua la serie delle amichevoli di lusso per il Cesena. Mercoledì contro il Queen's Park Rangers 1-0 con gol di Bogdani e questa sera si replica e sale in effetti la nota di qualità e di importanza della squadra che i bianconeri affronteranno. Niente meno che il Peñarol di Montevideo. La squadra sudamericana, forte di ben 48 campionati uruguayani vinti, ai quali occorre aggiungere 5 Libertadores e 3 Coppe Intercontinentali, ha avuto poi riconosciuto dalla FIFA il grande titolo di essere il club del XX secolo per il campionato americano. Insomma, non c'è bisogno di troppe presentazioni a questo punto per riuscire a presentare gli avversari di questa sera della Cesena. Si gioca alle 20.45 allo stadio Morgagni di Forlì. Cesena che vuole crescere ancora. I bianconeri saranno in campo probabilmente con questa formazione. Antonioli tra i pali, Comotto, Ricci, Rossi, Lauro in difesa, Parolo Colucci che andrebbe a centrocampo, Malungà, Muto e Giaccherini in avanti. Anche se spingono Eder e Guana che potrebbero far parte della squadra almeno per uno spezzone di gara. Buon divertimento dunque perché di divertimento si potrà sicuramente parlare.